Abbiamo la fortuna di avere qui con noi la rettrice dell'Università di Firenze, la professoressa Alessandra Petucci, che nel suo passato si è occupata di dati, quindi abbiamo questa passione in comune che ci ha fatta incontrare anni fa. E ora dirige l'Università di Firenze e in particolare ci racconterà due progetti di innovazione che come Università di Firenze, ma anche Pisa, anche la Sant'Anna, stanno portando avanti anche con i fondi PNRR per innovare il sistema salute della regione toscana. Prego professoressa, lei la parola. Grazie, grazie Felicia, grazie per l'invito, non so se si sente. È un po' difficile cominciare dopo il pranzo, cercherò di tenervi sveglie, compatibilmente con l'argomento ovviamente. Felicia ha giustamente anticipato l'argomento di questo mio breve intervento. Innanzitutto posso avanzare io con questo? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto lasciatemi fare un piccolissimo collegamento, riprendo un attimino i fili del discorso. Questo intervento avrebbe come titolo appunto formazione, innovazione e ricerca e l'ho voluto declinare appunto portandovi più che altro un'esperienza effettiva sul campo, non certo una parte teorica. E ho cominciato a ragionare sostanzialmente su questi spunti che mi sembravano raccogliere un po' tutti gli argomenti che anche prima di me sono stati sviluppati. Quindi come potete vedere dei trend in accelerazione, quindi siamo davanti appunto a delle sfide che ci occupano, non li sto a sottolineare perché è stato già ampiamente parlato di questo. Voglio sottolineare un pochettino di più, se mi consentite, l'ultimo, quello del cambiamento demografico perché questa è una chiave di lettura e anche un punto che fra l'altro accomuna molto i due progetti che dopo vi presenterò, anzi quasi subito vi presenterò. L'idea è anche quella di portare, cioè mettere all'interno della strategia digitale europea, la Shaping Europe Digital Future e quindi andare a lavorare anche specificatamente sui dati. Allora, per costruire quello che poi si chiama European Health Data Space ci sono senz'altro delle barriere ma anche delle grandi opportunità. Direi che alcune sfide sono sostanzialmente le opportunità e sono anche quelle che sono state già elencate stamani nel corso dei vari interventi che io in questo caso declino proprio come un'opportunità anche per la formazione dei giovani ricercatori ma anche appunto dei giovani medici che dovrebbero uscire dalla formazione universitaria. E quindi li ho elencati qua, ve li leggo velocemente, cioè quello della privacy e il rispetto del GDPR ormai è un argomento che siamo tutti quanti ben edotti. La sicurezza informatica, magari se ne è parlato un pochettino di meno stamani ma è sicuramente interlacciata anche alla prima, anche la rimozione di barriere normative, in alcuni casi non facciamoci sentire troppo dall'avvocato scorza ma sicuramente capisce in che modo lo penso. E anche un altro elemento interessante che bisogna in qualche maniera considerare è la diversità dei sistemi sanitari e la scarsa standardizzazione dei dati. Questo un po' era già nata, questo punto era già emerso, scarsa standardizzazione e se volete anche un po' scarsa qualità che è uno degli elementi fondamentali per poter poi far funzionare tutti questi meccanismi. E quindi la mancanza di interoperabilità e infine, le ho messe per ultima ma non ultima, le cosiddette barriere culturali. Barriere culturali che non sono solo culturali ma anche di altre specie, per esempio anche le barriere linguistiche, perché no, e anche le barriere dovute all'età. E infatti questo dell'età è un po' un fil rouge che ci lega. Allora qui vedete in maniera molto sintetica un po' tutti i benefici che possono essere ottenuti attraverso appunto la messa a terra di questo European Health Data Space. In particolare voglio ricordare alcuni benefici, proprio in maniera rapidissima, benefici che si ripercuotano anche sul campo della formazione. Quindi una formazione che può essere basata su dati come si dice reali, cioè evidence based, l'ampiamento delle opportunità di apprendimento in questo senso, il miglioramento delle competenze nella Health Data Analytics, la promozione della collaborazione e del lavoro di squadra. Anche su questo è stato ricordato proprio stamattina, ricordavano che lavorare insieme fa bene, uno è più felice e quindi dove c'è felicità appunto si può rendere anche meglio. La preparazione anche di sfide future nel settore sanitario. Ecco, anche questo è una slide molto riassuntiva che voleva ricordarvi le opportunità dell'utilizzo dei dati secondario e quindi come vedete questa opportunità si può realizzare se l'approccio è olistico, è multidimensionale per creare appunto un ecosistema basato sulla fiducia, sulla collaborazione anche tra governi, istituzioni sanitarie, esperti in data e in sicurezza informatica, oltre che ovviamente dei cittadini che non sono assolutamente gli ultimi della lista ma anzi i primi e i veri promotori anche di tutti questi meccanismi. Vabbè, su questo, sull'Artificial Intelligence Act appunto salto perché tanto è stato detto molto e arrivo a questi due progetti. Questi due progetti hanno come titolo uno AGIT e l'altro THE, cioè Tuscany Health Ecosystem. Comincio col primo, il primo è un parternariato esteso, faceva parte dei bandi del parternariato esteso e parte da un presupposto, se volete, abbastanza ovvio che è stato già detto, cioè sul fatto che la nostra popolazione, in particolare la nostra popolazione italiana, dal punto di vista demografico presenta dei caratteri di eccezionalità. Lasciatemi usare questa parola che ha anche un'accezione positiva, no? Il nostro infatti è un paese che ha livelli estremi sia dal punto di vista della fecondità, che è estremamente bassa, e anche dall'altro lato un'aspettativa di vita invece fra le più lunghe al mondo. Quindi per chi si occupa appunto di dati, di indicatori, sapete che questi sono due indicatori demografici che sono sostanzialmente in valore completamente opposto, ma estremamente estremo, e quindi di conseguenza ecco l'eccezionalità. Allora questo parternariato esteso, come vi dicevo, che è stato appunto finanziato dal piano di ripresa e resilienza, è partito da questa osservazione e quindi è partito nell'ambito delle sfide dell'invecchiamento, cercando di far diventare l'invecchiamento in realtà una grande opportunità. e quindi ha voluto mettere insieme un po' tutte quelle materie che potevano essere, diciamo così, utili alla definizione, ad aggredire, diciamo così, questa opportunità, proprio per poter vedere, per avere una visione olistica e completa. Quindi vedete che c'è la partecipazione sia, ovviamente, delle scienze biomediche, sia, diciamo così, proprio della scienza e della tecnologia, e anche delle scienze sociali. Qui vedete come è organizzato, ora non pretendo di descrivervi ovviamente tutto, ma sostanzialmente è organizzato in quelle che si chiamano SPOC, che sono sostanzialmente dieci sfide, sono delle sfide che si possono leggere in orizzontale e alcune in verticale. Quindi ci sono alcune sfide che si vedono appunto dipanarsi su una linea orizzontale e delle altre invece che si sviluppano sulle linee verticali. Ora, qui è scritto molto piccolo, quindi non è che voglio andare nei dettagli, ma giusto per farvi vedere come effettivamente è stata, diciamo così, una composizione piuttosto complessa. E in tutti questi SPOC, in tutti questi raggruppamenti di enti e di università che lavorano su questi temi, si è voluto fare in modo che ci fosse molta interdisciplinarietà, quindi molto utilizzo, diciamo, del lavorare insieme. Quindi questo è un elemento, a mio modo di vedere, particolarmente qualificante. qui vedete, diciamo così, tutta la partnership, sono 27 i partner che lavorano su questo tema. Vedete che ci sono molte università, ma anche aziende di vario tipo e non solo di tipo biomedico. Questa è una partnership, così, diciamo così, se mi passate il termine, imponente, che vorrebbe far continuare un po' questo progetto anche dopo, no? Ci si chiede, ultimamente ci si chiede spesso cosa succederà dopo. Ebbene, in questo caso il dopo potrebbe essere effettivamente la costituzione di un istituto che si occupi proprio di tutti gli elementi, tutti gli aspetti dell'invecchiamento. Un istituto che in Italia non esiste, esistono alcuni all'estero e che, devo dire, viene visto con particolare interesse. Un elemento, fra l'altro, che mi piace portarvi in questo contesto in cui si sta parlando di dati, è proprio quello della costituzione all'interno di questo progetto del Data Management Board. E per cui si è voluto questo board? Si è voluto fortemente perché si è pensato che proprio i dati erano il nucleo sul quale tutti quanti si doveva andare a ragionare. E quindi vedete che questo board è costituito da tantissime specialità, se volete, da tantissimi esperti che si occupano in realtà dei dati sotto punti di vista differenti, ma che concorrono tutti quanti a poter valorizzare il dato all'interno del programma. E mi piace anche sottolineare l'interesse, l'attenzione che è stata posta sulla parte etica. È stata ricordata proprio in fondo, in chiusura. La parte etica di queste tecnologie è una componente fondamentale e quindi di conseguenza bisogna tenerne conto fin da subito, fin da subito bisogna interrogarsi e in questo modo anche questo programma ha cercato di affrontare questo elemento. Beh, qui vedete in maniera abbastanza sintetica un po' gli obiettivi principali che ha questo board. e una parte ovviamente operativa è quella di costituire una piattaforma condivisa, favorire anche appunto quella famosa interoperabilità di cui vi parlavo prima e di creare anche un ambiente istituzionale per l'uso e la condivisione all'interno del programma che sia comunque rispettosa della disciplina legale e quindi anche da questo punto di vista GDPR. Promuovere appunto la collaborazione fra tutti i data holders per favorire l'accesso e la condivisione di dati amministrativi, biobanche, questo è un altro archivio, un'altra fonte di dati estremamente importante, le biobanche, i dati campionari anche, cambiando un po' il paradigma, cercando di cambiare il paradigma passando dalla cosiddetta data protection che è lo standard alla data governance che è quella appunto a cui stiamo andando. Quindi favorire l'uso di smart data, dati statistici in grandi campioni che siano rappresentativi della popolazione. Le sfide di questo board sono proprio quelle di favorire una cultura della condivisione dei dati per la ricerca sull'invecchiamento della popolazione, chiaramente in base a standard uniformi, i cosiddetti principi FAIR della ricerca, creare un gruppo di condivisione degli obiettivi di AGIT, garantire sostenibilità della ricerca quantitativa e osservazionale anche attraverso la creazione di uno o più open repository, e infine promuovere la cosiddetta visione di data altruism. ovviamente poi abbiamo delle azioni correnti di questo board, e qui vedete più in particolare quello che alcuni singoli Spook stanno portando avanti, ma si entra un po' nel dettaglio, magari questo lo salto. e vado all'altro progetto, il progetto che invece si chiama Tuscany Health Ecosystem, in questo caso si tratta dell'ecosistema dell'innovazione, faceva parte di quella call degli ecosistemi sull'innovazione, è l'unico ecosistema che è stato finanziato nell'ambito di scienze della vita, e l'elemento secondo me particolarmente interessante è che raccoglie tutte le università della Toscana, comprese le scuole, quindi abbiamo le quattro università, più le scuole speciali, la normale, l'IMT di Lucca e la Sant'Anna, sempre di Pisa. Vi è comunque anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Fondazione Toscana Life Science, l'Istituto Italiano di Tecnologia, perché fra l'altro l'Istituto Italiano di Tecnologia ha anche una piccola dependance a Pisa, quindi per questo rientra sempre nella Toscana, e il Museo Galileo che è a Firenze. Poi abbiamo anche altri partner, però questi sono, i primi 12 sono i nostri soci fondatori. La missione di questo ecosistema è interessante perché vuole andare a vedere in una maniera integrata l'intero panorama regionale delle scienze della vita, quindi affronta, se volete, anche parte di quello di cui si occupa EGIT, ma lo vede, se volete, in un'azione un pochettino differente. Vuole implementare e supportare l'interazione proattiva e collettiva fra gli stakeholder, fra i portatori di interesse, vuole promuovere la traslazione di soluzioni innovative dalla ricerca al mercato e sviluppare innovazione per restituire gli investimenti pubblici al mercato e alla società. Questi erano un po' i principi fondamentali che dovevano essere anche ripresi e che erano anche richiesti da un ecosistema. Gli obiettivi, vedete, sono quelli soprattutto di andare ad analizzare tutti i bisogni clinici che non sono soddisfatti, andare a lavorare appunto sulla ricerca e lo sviluppo e anche predisporre dei prototipi e validare delle nuove tecnologie. Qui vedete invece com'è organizzato questo programma che in questo caso vedete anche degli SPOC trasversali, anche in questo caso è organizzato in SPOC. Esistono due SPOC trasversali, come potete vedere, il 5 e il 10 che vanno un po' ad unire il lavoro di tutti gli altri. In particolare uno si occupa più di, come si dice adesso, che va molto di moda a mettere a terra tutto quello che viene prodotto dal programma e l'altro invece si occupa del cosiddetto population health, quindi sulla parte proprio della salute dei cittadini. ovviamente non vi ne sto a descrivere tutti gli SPOC, però ci tenevo a sottolineare alcuni, in particolare alcuni che lavorano su argomenti che sono strettamente vicini anche alla digitalizzazione. In particolare vedete abbiamo uno SPOC che lavora proprio sulla medicina di precisione ed è stata nominata anche questa e quindi sui biomarcatori avanzati, su approcci personalizzati per il trattamento e la gestione dei pazienti cronici, l'intelligenza artificiale e anche la biologia computazionale legata all'OMICA, anche questa è stata ricordata per la diagnostica e lo sviluppo terapeutico, il sviluppo di dispositivi medici personalizzati e anche appunto lo sviluppo di trattamenti innovativi. Poi ovviamente ci sono degli sottoprogetti, in particolare vedete l'implementazione dell'intelligenza artificiale per favorire la medicina di precisione e l'assistenza sanitaria personalizzata. Qui vado un po' più avanti per non togliere tempo a tutti gli altri. Ecco, qui abbiamo un altro SPOC che invece si occupa di biotecnologia e le immagini nelle neuroscienze. In questo caso, questo SPOC in particolare ha un approccio strettamente multidisciplinare, va ad analizzare tecnologie abilitanti innovative e prodotti diagnostici e terapeutici di nuova generazione per le malattie del sistema nervoso centrale e anche la progettazione di nuovi farmaci con tecniche computazionali e ovviamente chimiche anche, modelli preclinici per l'identificazione di bersagli e lo sviluppo di terapie, sviluppo di strumenti cellulari e molecolari innovativi. Ecco, per quanto riguarda questo SPOC in particolare, una caratteristica speciale che magari, ecco, di questo magari non si è parlato molto stamani, perché lavora sì con l'intelligenza artificiale, ma questa volta lavora su tipologie di cellule, vedete, tipi di cellule, da sezioni istologiche, la ricostruzione dell'oratlante di espressione a livello celebrale in modo tale da poter poi utilizzare modelli di intelligenza artificiale per la farmaco e genomica e le terapie mirate. e poi non ci non potevano mancare i robot, eccoli qua, quindi giustamente anche in questo caso abbiamo la parte di chi si occupa appunto di robotica e automazione e nella, diciamo così, nella costruzione dei prototipi anche di questo tipo di strumenti, ma un po' diminutivo. Uno delle soluzioni telerobotiche sulla quale si sta studiando è la diagnostica ecografica a distanza, che anche in questo caso va a supporto della telemedicina e quindi la amplia e può appunto supportarla in una maniera particolarmente importante. e poi ovviamente anche le visioni aumentate, i visori di realtà aumentata per guidare la chirurgia. Ecco, infine l'ultimo spoke, ultimo ma non ultimo, che è quello in trasversale, come vedete si occupa in particolare di strumenti a supporto della governance e del management dell'ecosistema sanitario e quindi vuole andare in un certo senso a colmare quel divario che ci può essere fra innovazione e implementazione su larga scala, cioè sull'implementazione effettivamente a livello del cittadino e quindi poter affrontare questi problemi per appunto cercare di migliorare gli impatti sociali, clinici ed economici. Ecco, qui vedete un po' come ragiona lo spoke 10 e in particolare però quello che mi premeva insomma sottolineare in questo caso è che la strategia di soluzioni dell'intelligenza artificiale di strumenti di telemedicina vengono in questo caso legate insieme proprio in questo spoke che punterà appunto all'integrazione di applicativi legati alla cartella clinica elettronica per puntare a un approccio di telemedicina integrata in questo modo garantendo quella famosa interoperabilità tra sistemi di cui si diceva prima si sta lavorando già su dei su dei modelli che sembravano funzionare bene e che quindi si stanno sviluppando ulteriormente e quindi mi auguro soprattutto vedete soprattutto per le aree interne per le aree interne della regione toscana che sono ovviamente non si sta parlando delle grandi città che ovviamente hanno diciamo delle organizzazioni molto più robuste ma bensì per le aree interne magari non facilmente raggiungibili e e quindi su questo su questo tema si sta lavorando piuttosto tenacemente e si cominceranno a presentare a breve anche alcuni risultati quindi io ho finito vi ringrazio grazie 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 grazie